Ho conosciuto Marco Volpe tramite dei corsi di formazione su web marketing, mi ha colpito subito la determinazione non solo nel quello che fanno tutti nella promozione del web, quindi nel cercare di far vedere a più persone il proprio sito che è l'obiettivo ormai di tutti, ma nel controllare quello che si fa e lì ho visto la differenza un po' con quello che si faceva normalmente sul mercato. E quindi da lì piano piano, perché comunque lasciare il vecchio che funzionava, ma su cui non avevo un controllo, quindi funzionava, costava, ma non sapevo poi quanto rendeva. Sono passato poi nell'arco di un anno, un anno e mezzo alla consulenza da Marco Volpe. Sono quattro anni e ho visto proprio ogni anno il miglioramento, sia per quanto riguarda la visibilità del mio sito, quindi cercare che più persone possibili possano vedere e adesso comprare anche il mio prodotto, non solo vedere che prima era quello cui mi limitavo, cioè far vedere il mio sito a più persone, non controllavo a quanti poi riuscivo a vendere la vacanza. E anche comunque cercare di, al quarto anno, abbassare i costi per la comunicazione, in quanto cerchiamo di sfruttare al meglio i contatti che abbiamo. Non ho mai avuto problemi, sono sempre veloci o comunque riescono, a quando ci sono dei problemi che capitano sul sito o problemi di vendita in cui sono indietro sulla vendita di alcune settimane, per cui facciamo delle azioni anche all'ultimo momento o comunque fuori dal programma che si era delineato. Siamo sempre in velocità intervenuti, abbiamo sempre risolto le situazioni e modificato anche degli andamenti.